Il consigliere regionale Gianni Rosa ha presentato un'interrogazione al presidente della giunta regionale Pittella per avere ragguagli su uno studio di valutazione di incidenza ambientale delle prospezioni sismiche che sarebbe stato commissionato nel 2010 dalla compagnia petrolifera Total nella Valle del Sauro. Dello studio al quale fa riferimento Rosa si parla in un articolo del quotidiano online Basilicata 24 ma non c'è traccia nella relazione conclusiva della commissione speciale d'inchiesta sull'attività estrattiva in Valdagri e in Valcamastra. L'esponente di Fratelli d'Italia chiede di sapere se esistano altri studi simili, se le preoccupazioni sollevate dal laboratorio che ha effettuato le analisi circa una potenziale incidenza negativa sulle componenti biotiche dell'area siano fondate e se e quali provvedimenti sono stati adottati. Infine Rosa chiede di sapere se esiste un accordo tra la regione Basilicata e le compagnie petrolifere in base al quale sarebbe stata secretata la documentazione relativa alle estrazioni petrolifere in Basilicata tra cui gli studi di impatto ambientale commissionati dalle compagnie petrolifere. Grazie a tutti.